L'esperienza dell'Expo è senz'altro un'opportunità per tutti i territori regionali. Le regioni italiane hanno contribuito tutte assieme per assicurare una presenza che fosse non una presenza rituale ma piena di contenuti. 14 sono stati tematismi trattati e la presenza ha assicurato una qualità sia degli interventi che dei contenuti. A fronte di questo abbiamo anche riscontrato qualche criticità ma quelle fanno parte del sistema paese e sicuramente potranno essere in futuro affrontate con maggior determinazione per assicurare al nostro paese quel ruolo da protagonista che l'Expo ha cercato di conferire proprio a questo grande appuntamento. È stato un appuntamento dove si è scommesso sul nostro paese, sulla nostra capacità di saper fare, sulla nostra capacità di affrontare con le nuove generazioni il futuro, consci anche dei nostri limiti. Io credo che sia stata una scommessa vinta e che veramente dall'Expo si possa iniziare una nuova pagina per ricollocare il nostro paese nella sua giusta dimensione internazionale. Grazie. 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 Grazie.